Crypto.com ragazzi è davvero ovunque come ben si vede qui tutti ne stanno parlando in questo momento in questo video voglio mostrarvi un po' di cosa si tratta perché hanno fatto questo per celebrare gli 8 anni dell'anniversario ci sono tante novità importanti per quanto riguarda soprattutto Ethereum ragazzi perché ieri ufficialmente è iniziato il trading degli ETF su Ethereum quindi abbiamo visto quasi un miliardo di dollari in volumi voglio parlarvi anche degli inflow che ci sono stati e cosa potrebbero significare nel breve e lungo termine voglio assolutamente aggiornarvi anche per quanto riguarda le crypto che mi avete chiesto di analizzare verso la fine di questo video e c'è anche un bonus super interessante di 50 euro con Bitpanda che potrebbe interessarvi ora ragazzi davvero iniziamo subito prima di iniziare un mi piace e basta un click il gioco è fatto se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale per non perdermi nulla perché cerco sempre di aggiornarvi ovunque sia in qualsiasi momento e nel mondo crypto se succedono davvero tantissime cose è fondamentale iscriversi allora crypto bubbles vediamo una situazione un po' mista c'è qualche nome in verde ad esempio c'è Mew che è una meme coin ogni tanto escono queste meme coins ragazzi all'improvviso e questo è un po' il problema ultimamente del mondo crypto perché ci sono troppe criptovalute e meno volume rispetto ad esempio al bull market che abbiamo visto nel 2021 quindi questo sta causando un po' di problemi per quanto riguarda le altcoins vediamo poi qualche nome in rosso avex, beam, bitget, core, oldo, fat, tia quindi diciamo la maggior parte delle crypto è in rosso i volumi sono di 83 miliardi di dollari niente di wow cioè sono volumi abbastanza bassi si può dire soprattutto quando prendiamo mesi come marzo febbraio 2024 market cap di 2.39 trilioni di dollari fee and green index numero 60 siamo in grid verso la zona neutrale per quanto riguarda questo indice delle criptovalute però bitcoin sta trattando 65.800 dollari questa mattina mentre sto registrando questo video voglio assolutamente anche aggiornarvi per i prezzi però un po' verso la fine allora ragazzi notizia boma per quanto riguarda crypto.com voglio mostrarvi dura 20 secondi questo video quindi c'è la sfera a las vegas all'incirca un biglietto per entrare qui dentro costa dai 3.000 ai 5.000 dollari addirittura cioè è una cosa assurda all'interno perché uno sapesse c'è uno schermo gigante tipo 8k se non di più non sono sicuro in questo momento però è bellissimo ma anche la sfera all'esterno è bellissima e hanno mostrato crypto.com con ovviamente il simbolo di crypto.com e poi subito dopo bitcoin che è in questo momento diciamo famosissimo soprattutto negli Stati Uniti quindi tutti stanno condividendo questa gif questo video anche Michael Saylor tutti gli account più famosi e crypto.com è lì ragazzi è sempre lì questo è il discorso però il token per adesso non si muove quindi è quello che ci interessa e sicuramente spero che come è accaduto con bitcoin ci sia un alt season potente che trascini ovviamente tutte le altre tutte le altcoins che stiamo seguendo ultimamente abbiamo visto ieri quindi ufficialmente il volume di trading sorpassare un miliardo di dollari e non significa che sono gli inflow questi qua ragazzi sono i miliardo di dollari di volumi generati ok è positivo assolutamente infatti volevo leggervi un secondo qualche frase di questo articolo perché i fondi negoziati in borsa degli ETF su Ethereum hanno registrato ieri un afflusso al primo giorno netto di 106 milioni di dollari quindi afflusso netto di 106 milioni di dollari nonostante massicci dei flussi dell'Ethereum Trust appena convertito di Grayscale gli afflussi verso i fondi Ether Spot sono stati sufficienti per superare il sanguinamento dei Grayscale Ethereum Trust che è uscito da 484 milioni di dollari quel giorno cioè quindi ragazzi abbiamo sempre il problema di Grayscale come successe con bitcoin all'inizio che c'erano volumi positivi c'erano acquisti però bitcoin non riusciva a salire perché ovviamente c'era Grayscale che rompeva un po' le scatole ma in questo caso Ethereum passerà perché c'è stato già un miliardo di dollari di volumi che è super bullish abbiamo visto 100 milioni di dollari di influssi e soprattutto anche nonostante 484 milioni di deflussi il prezzo ha tenuto abbastanza bene devo dire e per questo ragazzi diciamo sono abbastanza bullish per Ethereum per Realcoins non c'è niente di cui preoccuparsi e sicuramente ne vedremo delle belle per quanto riguarda anche la situazione con Ethereum altra notizia importante vediamo con il grande capo dell'SEC in questo momento Gary Gensler che potrebbe essere licenziato nel 2025 dopo diciamo che Biden non sarà più il presidente degli Stati Uniti in America che si è anche dimesso per quanto riguarda la corsa della presidenza quindi ci sarà Biden scusatemi Trump oppure qualcun altro e questo è positivo perché è un po' contro le cripto sapete lui ha iniziato questa lotta ciò non significa che il prossimo possa essere ovviamente pro cripto però già togliessi di mezzo Gary Gensler potrebbe essere super interessante davvero vediamo che questa un po' questa counter ha assunto quello che è successo quello che succederà con Ethereum e persone che si spaventano perché il prezzo di Ethereum non sale iniziano a vendere poi entreranno realmente nuovi attori di mercato nuovi volumi all'interno dell'Ethereum spot ETF che acquisteranno milioni e milioni e il prezzo di conseguenza salirà e mi aspetto ragazzi un massimo storico entro la fine di quest'anno 2024 un nuovo massimo storico per Ethereum ieri il prezzo è iniziato a salire sul grafico giornaliero poi abbiamo perso un po' la situazione in questo momento sta scendendo un pochettino il prezzo però niente di particolare ripeto mi aspetto che ci siano altri deflussi per colpa di Grayscale che ha tanti soldi in Ethereum e poi le persone diciamo gli investitori in generale acquisteranno il prezzo salirà anche verso i 4.000 come abbiamo visto a marzo 2024 e speriamo di rompere questa resistenza breve e spero che tutte le altre altcoins si riprenderanno perché sono un po' ferme anche Crow è fermo qui ha avuto questa salita un po' questa ripresa però niente di che sul giornaliero come ben si vede e anche l'altra è cripto quindi attenzione a vedere che succede allora detto questo ragazzi passiamo un secondo alle cripto che mi avete chiesto di analizzare mi avete chiesto AMP e AMP è un progetto molto interessante che permette di far pagare diciamo gli utenti con le risorse digitali quindi diciamo che il massimo storico è avvenuto 3 anni fa siamo abbastanza lontani il massimo è il minimo storico 4 anni fa e adesso se prendiamo il grafico annuale abbiamo avuto una piccola risalita con un più 100% negli ultimi 365 giorni però lo stesso non vedo tutto questo interesse nel progetto anche se è un progetto interessante e potrebbe esserci un altro impulso senza nessun problema in questo qui il grafico generale quindi il massimo storico è avvenuto qui il 2021 intorno ai 0.09 adesso siamo intorno ai 0.004 quindi abbastanza indietro però il progetto è interessante mi avete chiesto anche SPEC di SPECTRAL siamo diciamo un progetto molto recente sono sincero non ero a conoscenza questo progetto uno specifico l'ho sentito però non sono un esperto al riguardo il massimo storico due mesi fa il minimo storico 16 giorni fa adesso siamo a 7 dollari quindi potrebbe essere una crypto che va va e ci potrebbe essere un'altra risalita c'è spazio per specularci vi dico solo questo ragazzi non sono consigli finanziari però c'è spazio assolutamente per specularci perché secondo me potrebbe essere molto interessante questo qui è il sito onchain agent economy non so nello specifico di cosa si tratta si parla di coding ragazzi quindi non sono esperto al riguardo però vedo che ci sono volumi e interesse ma avete chiesto ARB ragazzi ovviamente Arbitrum ha fatto il suo diciamo che ha avuto successo incredibile all'inizio è un progetto che ha avuto il massimo storico 6 mesi fa per quanto riguarda marzo eccetera però visto che è un layer 2 di Ethereum visto che Ethereum adesso è nel centro dell'attenzione tutti ne parlano questi layer 2 come ARB potrebbero risalire un po' potrebbero entrare volumi se Ethereum dovesse realmente rompere diciamo un po' i massimi precedenti eccetera quindi progetto che tengo d'occhio ho investito ho ancora dei token in verità quindi vediamo che succede questo è il welcome bonus ragazzi che avete con Bitpanda in poche parole avete 50 euro come bonus di benvenuto per partecipare depositate un minimo di 100 euro per ogni 100 euro investiti quindi depositati e poi investiti nella piattaforma non so comprate Bitcoin ricevete 10 euro subito fino a un massimo di 50 euro senza costi di deposito prelievo su tutte le valute fiat e metodi di pagamento incluso le carte di credito quindi questo è ottimo vi lascio come al solito ragazzi il link affiliato qui in basso ovviamente è un link affiliato ci guadagno una percentuale e se lo fate tramite il mio link mi supportate in questo modo e vi ringrazio detto questo voglio parlare un secondo del Bitcoin perché siamo sempre in questo range ragazzi le persone che vanno in panico non le capisco siamo sempre in questo range anche se il prezzo va a 73.000 74.000 dollari siamo sempre in questa resistenza qui e quando arriviamo qui sarei più bullish ovviamente però ho voglia di vedere un retest e poi una rottura realmente verso gli 80.000 per essere di nuovo realmente fuori da range perché abbiamo visto anche un fake out qui in basso recentemente il prezzo poi è rimbalzato quindi anche un fake out qui potrebbe esserci ragazzi potrebbe essere un fake out qui e il prezzo potrebbe ritornare in questo range spero che i volumi rientrino ragazzi perché i volumi sono abbastanza bassi però estate anche se tante cose stanno accadendo e questo è molto molto positivo detto questo ragazzi grazie mille a tutti per la visione di questo video noi ci aggiorniamo prestissimo con la prossima avventura vi ricordo un mi piace basta un clic il gioco è fatto e se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale per non perdervi nulla come al solito ragazzi se avete progetti che vogliate che io analizzi lasciatemi i nomi qui in basso così do un'occhiata assolutamente e ne parlo nei prossimi video ciao a tutti ragazzi e buona giornata